Il progetto CLIC finanziato nel programma Horizon 2020 dalla Commissione Europea. È la terza volta che ci riuniamo qui a Salerno e dobbiamo oggi discutere non tanto perché o cosa fare per migliorare la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio culturale a Salerno, ma come. Il problema è scendere e atterrare sul piano del come fare per. Come fare per riutilizzare il patrimonio culturale in una prospettiva di economia circolare? Lo mettiamo molto ambizioso. Parigi ha fatto un libro bianco per rispondere a questa domanda. Io vorrei suggerire, vorrei proporre, vorrei stimolare una riflessione che porti a qualcosa di analogo, anche se meno impegnativo, qualcosa di analogo. Perché? Perché dobbiamo decidere qual è la riqualificazione funzionale, cioè quali sono le funzioni che servono in quel determinato luogo per migliorare la qualità della vita in tutte le dimensioni della gente che vive e che vive nella città di Salerno. E quindi cerchiamo di capire che cosa significa città circolare e che cosa significa la riqualificazione, il riuso funzionale del patrimonio culturale nella prospettiva della città circolare. Questo è l'oggetto. Oggi parte un processo che è molto più tecnico rispetto a quello più comunicativo, dialogico, problematico che nelle prime due iniziative abbiamo seguito. Questo è il terzo incontro del progetto CLIC, che è un progetto che ci vede protagonisti in Europa nello studio e nella ricerca di modelli innovativi per il recupero del patrimonio culturale. Questi incontri sono finalizzati all'ascolto con quelli che sono gli stakeholder della città per condividere insieme obiettivi e parametri e arrivare allo scopo di raggiungere la valorizzazione di un bene comune.